Fiocco rosa per Belen Rodriguez che nella notte del 12 luglio ha dato alla luce il comparto naturale la sua piccola Luna Marie. La bambina al momento della nascita pesava 2,9 kg. Il compagno di Belen, Antonino Spinalbese, si è dimostrato subito un papà orgoglioso e anche molto attento. Belen lo ha definito il suo angelo perché dal momento della nascita non l'ha lasciata sola neanche per un minuto e sta condividendo con lei ogni passo della loro bambina. Spinalbese ha addirittura sui social scritto una dedica per la piccola dicendo così Ti conquisterò ogni singolo attimo perché hai il profumo di felicità. Con l'occasione e le nostre felicitazioni per il lieto evento Ben arrivata Luna Marie E tanti auguri ai genitori. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a mettere un like se il contenuto è stato di vostro gradimento e ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle volume news. Grazie. Grazie. Grazie.